Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo nuovo video in cui parlo dei vari strumenti per il DM Allora, io nell'ultimo video, che nonostante tutto penso sia piaciuto, abbia lasciato qualcosa ho parlato del strumento, tra virgolette, del master rotazione Adesso ve lo voglio un pochino spiegare perché diciamo che l'ho lasciato un po' in sospeso ma visto che l'ho usato spesso, è appunto molto carino specialmente per far provare a persone a fare il master perché diciamo è una cosa difficile, specialmente un pochino più difficile fare il dungeon master anche perché c'è tanta meccanica, ci sono tante possibilità è più facile magari prendere un'avventura già pronta è un pochino più difficile fare tutto da zero ecco, bilanciamenti, cose che si acquisiscono ovviamente con l'esperienza ma se nessuno prova mai, l'esperienza non viene ecco lo strumento del master rotazione ci viene in aiuto specialmente in quei gruppi, tra virgolette, statici cioè che c'è il gruppo di amici fisso che gioca da tanti anni che si conoscono tutti che è una cosa bellissima per carità però diciamo non porta freschezza, novità se non si porta magari qualche nuovo membro non si vedono persone diverse che portano sempre anche novità ognuno ha il suo modo di giocare, ha anche i suoi giri quindi ecco, è anche una scelta in master a rotazione ci sono di due tipi, diciamo si può provare, mi parlo per esperienza personale facendo un'avventura a rotazione oppure la sessione a rotazione allora parto con quella che è più breve più facile da spiegare la sessione a rotazione che significa? si può prendere due persone anche tre, quattro come dicevo è un ottimo modo per far provare per far, diciamo, un terreno più leggero più protetto anche niente, gran costruzione grandi macchinazioni per far provare a fare il master master sulla sessione stessa a rotazione semplicemente ti mette il limite di tempo in base a quando fai lunga la sessione di solito in un'ora un'ora e mezzo perché diceva era anche il tempo di acclimatarsi al master e di buttar su quello che vuole far esprimere e in questo resto di tempo lui gioca appena scatta l'ora deve essere scandito ovviamente con qualche strumento se no di solito ci si dimentica tipo una sveglia e subentra l'altro così riponta un bianco non sapendo ovviamente l'avventura che stava giocando primo master che è bellissimo che comunque si gioca a tutti perché quello che ruota dopo torna a fare il giocatore ok e lì di punto in bianco propone la sua riallacciandosi a quello che sta accadendo questo è importante non è neanche difficile perché basta un po' di fantasia cambia qualche elemento quindi sconvolgendo alle volte la trama rendendo strano il tutto oppure dando un continuo inaspettato ok? io ve lo dico sembra strano sembra no ma è un raffazzonamento è carino questo ovviamente il metodo questo è per serate leggere per fare una shot diversa per quelle avventurine per giocare più avventura per una shot dopo se vi divertite noi l'abbiamo fatto anche qualche volta è anche un modo per far fare il master il master a chi ha timore a chi non ci vuole perdere molto tempo e magari fa anche appassionare perché senti wow cioè vedo faccio divertire piace quello che propongo magari inizio a fare il master così è successo a persone che conosco l'altro strumento il master l'avventura è più tecnico più pratico e poi è più anche ponderato nel senso che si decide un'avventura che duri tot tempo questo è anche relativo basa anche ai gusti ai giocatori ogni avventura ogni sessione scusate dell'avventura è scandita è un master diverso quindi non avrà un comune filo conduttore c'è il tempo tra una sessione e l'altra a chi toccherà per mettere qualcosa e devo tutto chiudere in quell'ambito del tempo quindi dove finisce finisce se in mezzo allo scontro se magari autoconclusiva riesce anche a concluderla quindi se attacca un altro cosa che magari è un po' più noiosa tra virgolette perché finisce inizia un altro quindi non cambierebbe niente è più bello un troncamento a un certo punto che l'altro si innesta e vengono fare cose originali quindi in base proprio a quello che accade quel momento di troncatura che sia in una fase concitata una fase nella stessa anche questo inizio magari è stata data e sono partiti subentra l'altro subentra l'altro una volta dopo che con il tempo che ha la sessione in alza mette in mezzo qualcosa ma dopo subentra ancora magari un altro rientra quello di prima una volta dopo capite il raggio di tempo è più ampio c'è più lavoro sopra quindi potrebbero mettersi anche d'accordo un segreto o anche no fatto sta che comunque sia vengono fuori cose particolari originali il filo conduttore di tutti questi metri di solito è molto il divertimento cioè sono cose leggere sono cose non dico burlesque o proprio pagliacciate passatemi il termine però più leggere più idoniche perché tendenzialmente una persona cerca di far divertire quindi si può cadere anche in stereotipi specialmente sul fatto di quello di improvvisare magari vengono fuori situazioni un pochino più buffe ma non c'è niente di male oppure si può cambiare tono improvvisamente cioè magari l'avventura più sull'eroico su combattimento passa a uno stealth passa a un giallo passa un po' magari all'horror cosa che il bello funziona ci può stare se si infila bene questo è il fatto e magari va a sdaturare o a stupire la persona che la ha ideata inizialmente e dà la possibilità alla persona che subentra di far entrare quello che voleva già a ingranaggi avviati che è di solito un gran vantaggio non è una limitazione è un gran vantaggio spiani la strada a quello che magari un altro vuole perché il gruppo è caldo se sono conosciuti la trama è avviata e ci infili quello che vuoi quindi questi questo generale grande strumento del master rotazione ho cercato di spiegarvelo più nel dettaglio allora non è che è una regola scritta ognuno può e lo può utilizzare come vuole ok nel manuale non lo trovate qualcosa che lo fa facendo prove sperimentando c'è tantissime altre cose che si possono fare esempio posso raccontare questo qualcuno forse l'ha provato del personaggio giocato a un coppia ma narrativamente giocato a un coppia esempio dei miei giocatori volevano giocare un hit in hit in a due teste e ognuno giocava una testa uno si occupava di un ambito uno di un altro e quando non erano d'accordo tiravano per chi in quel round aveva il dominio del corpo è particolare particolare sono tantissime cose come puoi giocare per stessa cosa un paesaggio normale una doppia personalità quindi qualcosa di anche un pochino più pesante magari una buona o una cattiva o una non da combattimento o non da combattimento che magari escono nei momenti sbagliati e danno tantissimo colore al gioco c'è veramente infinite possibilità questo è anche un trucco per magari far giocare qualcuno che non può essere sempre presente ma quando c'è c'entra senza dover far comparire o scopare un personaggio c'è tantissime cose veramente l'unico limite è la fantasia io cerco di farvi proporre sempre cose nuove diverse e dare qualche idea quindi penso che adesso posso concludere qui fatemi sapere la vostra un consiglio può sempre tornare utile nel senso che mettete nei commenti qualcosa che avete provato voi perché le prima azioni possono prenderlo utilizzarlo o evolverlo ok commento il mi piace che mi aiuta come sempre condivisione ci vediamo al prossimo video grazie a tutti